bravo questo è che ti dà la difficoltà se era libero andavi guarda lui uspia no Lele non fa qua mi sento molto in pericolo se la fa Lele bravo 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 su piano e a sinistra vai piano Lele ciao vai piano Sigaro vai piano è partito già 100 all'ora da qua no ma dico lui non lo sa io devi sentire il culo ok su e poi gli dai il culo si pensavi di passarmi sopra te poi adesso è andato di culo basta adesso quello lo devi solo soffiare guarda 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 te cioè tu dimmi cazzo è andato di culo però ho capito ho capito però figaro a zero a zero è roba da non crea ah no dovevo tirare non spingere hai visto il giorno come è girato eh sì però adesso io non riesco ma di è stato un culo che culo ha girato il giorno però l'ha fatta ma che roba ma che arriva il bicilindrico Benelli ma che arriva il Benelli dove è? Benelli ah quello è quello che ha ruotato il Benelli Benelli dai Benelli vieni va che è andato a casa a prendere la scorpa chi? ci gioco bravo Benelli bravo Benelli bravo Benelli bravo Benelli ma che è la mezzunissima volta è la mezzunissima volta figa e vediamo e vediamo ha fatto a zero gola ora mai ha fatto a zero gola bravo bravo lui ha capito com'è lui l'ha fatto a zero già due volte ha fatto a zero una volta a gola ti sei girato prima di saltare su bravo 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 ma è andato via subito ma è andato via subito ma è andato via subito quasi guarda lui però deve reagire sul dietro perché se no la nostra si ferma e passa fuori le 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 che ero occupato